Sono con Gaetano Tolomeo, giornalista, presidente di ITA TV e del gruppo sportivo ERAION 1956. Il nome della società si ispira all'ERAION o Tempio di Erargiva, l'antico santuario della Magna Grecia dedicato alla Dea Era, situato in origine alla foce del fiume Sele. Insomma abbiamo cominciato subito con dei riferimenti storici, Gaetano. Lo facciamo perché il nome è già il nome importante di questa società sportiva. Sì, come abbiamo detto prima, dipende come la vogliamo pronunciare sta parola. ERAION o ERAION? Archeologicamente forse è più corretto ERAION, no? Invece la nostra comunemente chiamata qui a Pestum, l'ERAION, gruppo sportivo ERAION, la prima società capacese, prima società di calcio capacese ancora esistente perché dobbiamo ricordare che c'era un'altra società che si chiamava la Virginia che comunque era una squadra di capaccio e che poi è sparita. Però la prima società perché 56 l'ERAION, 57 la Poseidon e 59 la Calpazio. Ecco, questo già è un dato molto interessante. Gaetano, è partita la macchina organizzativa per la stagione 2023-2024 del reality Stelle del calcio. Il 16-17 giugno vi sarà il raduno ufficiale. Come si svolge questa bella iniziativa? Allora, sette anni fa, da produttore televisivo e conduttore di questa trasmissione che poi è un docu-reality, noi che cosa vogliamo raccontare in questo docu-reality? Le realtà, le passioni, le motivazioni, le sensazioni, le attese di calciatori, di una squadra di calcio, di lettanti e poi vogliamo essere da esempio per le tante società di lettanti e attuare una organizzazione professionale in una società di lettanti, che non è facile. Come si svilupperà? Noi vogliamo coinvolgere il territorio. Il territorio di Capaccio Pestum, la provincia di Salerno, la regione Campania, il sud. L'Italia intera deve essere protagonista di questo reality. Come lo faremo? Coinvolgeremo le attività commerciali, le bellezze architettoniche, le bellezze paesaggistiche, le coinvolgeremo in questo reality, dandogli grande visibilità e portandoli alla ribalta su Digitale Terrestre e su Canale Sky, che stiamo ancora decidendo perché noi annualmente organizziamo le collaborazioni con le emittenti televisivi. Ecco, quindi territorio, calcio, attività produttive, grazie anche alla sinergia col comune di Capaccio Pestum. Dal 15 al 18 giugno, giugno è un mese importante a quanto sto capendo, a Capaccio Pestum si svolgerà anche il primo torneo internazionale trofeo dei Templi. L'obiettivo è quello di far vivere una esperienza sportiva indimenticabile nella città dei Templi. Sappiamo che Pestum è famosa a livello internazionale e non per nulla fa parte del patrimonio UNESCO. Aggiungo, l'8 di giugno ci sarà la giornata dedicata al fondatore dell'Ereon, Salvatore Apadula. Quest'anno abbiamo creato una sinergia con l'Associazione Salvatore Apadula. ci sarà il sorteggio e la premiazione di chi avrà vinto il premio Salvatore Apadula. Ogni anno sai che si premiano le varie categorie e sarà nella piazzetta di Pestum e lì faremo il sorteggio del torneo. In più, un altro momento importante, nel mese di giugno, la fine di giugno, l'ultima settimana di giugno, l'Ereon parteciperà ad un torneo, guarda caso, legato ancora alle tradizioni architettoniche e storiche di Capaccio Pestum, saremo a Sibari. Voi sapete bene che i greci che fondarono la prima città di Pestum venivano da Sibari. C'è un gemellaggio, insomma. La magna grecia ritorna. Allora, Presidente, quali sono i valori che la sua società intende infondere nei giovani? C'è una cultura sportiva, oserei dire di vita, che bisogna perseguire? Ecco, io le chiedo questo e poi vorrei sapere, in seconda battuta, che cosa pensa del calcio di oggi che probabilmente ha troppa esasperazione. Allora, noi cerchiamo di infondere nel calciatore dell'Ereon i principi tecnico-tattici del calcio, ma soprattutto i principi umani. Noi vogliamo che alla fine del percorso, oltre ad arrivare in prima squadra, noi dobbiamo aver preparato anche un uomo. E quindi sono questi i principi che cerchiamo di infondere ai nostri calciatori, oltre alla lealtà sportiva, alla lealtà morale, al rispetto delle regole. Un consiglio da dare alle nuove leve, a conclusione di questa intervista? Più che darle alle nuove leve, le voglio dare ai genitori. Non esasperate i vostri figli e se andate a vedere le partite guardatele in silenzio senza commentare e senza andare a dire bravo a vostri figli. Cercate di stargli vicino, ma non andate ad esasperarlo.